Ingredienti Dosi per 4 persone 100 grammi di riso 300 grammi di spinaci surgelati 150 grammi di parmigiano grattugiato 50 grammi di formaggio olandese 2 uova 4 foglie di salvia Brodo e sale Preparazione Lessare il riso e metterlo in una terrina con gli spinaci lessati tritati Aggiungere i tuorli Il parmigiano La salvia tritata e gli albumi montati a neve Versare in uno stampo imburrato formando uno strato non più alto di un centimetro Cospargere con il formaggio olandese a pezzetti e infornare per 35 minuti Lasciar raffreddare Tagliare a cubetti Mettere nelle scodelle e coprire con brodo caldo Il piatto è pronto Buon appetito